Chiedono al Governo centrale un nuovo piano per il Sud che sblocchi quelle risorse già stanziate e le renda disponibili perché così si possa dare respiro alle imprese e creare condizioni per lo sviluppo. L'appello è stato lanciato questa mattina dall'Assemblea dei Delegati Provinciali di CGL, Cisle e Will che si è svolta presso la sede orientale della Camera di Commercio di Salerno. La provincia di Salerno, come tutto il Sud Italia, sta registrando una lenta agonia, dicono i sindacati, contro la quale bisogna investire forze e risorse. Le organizzazioni sindacali hanno parlato di una vera e propria avvertenza a Salerno. I dati sull'economia del Sud, come quelli recenti dello Svimex, condannano il territorio e tutto il mezzogiorno e fanno impressione. Il sindacato oggi si è detto pronto ad intervenire ma chiede una programmazione territoriale e l'intervento di tutte le istituzioni preposte.